Quanto riguarda la squadra italiana, positivo perché mette quasi al sicuro la squadra bianconera che dovrà soltanto vincere al ritorno, però c'è questo imperativo categorico di dover vincere assolutamente con qualsiasi punteggio, ma la Juventus deve vincere perché qualunque pareggio sarebbe favorevole alla squadra di Fiume che potrebbe giovarsi del gol doppio in trasferta. Quindi per la Juventus c'è in sostanza il rammarico di aver osato troppo poco quando forse l'avversario era meno difficile di quello che si poteva pensare in un primo tempo. C'è anche da considerare che la preparazione delle due squadre è diversa, come è noto all'inizio dei tornei sono le squadre italiane che risentono un po' della limitata preparazione. In questo momento ci sono altre squadre, soprattutto quelle dell'est europeo, che dopo la lunga pausa invernale si presentano non molto rodate dal punto di vista della preparazione e dell'allenamento. Il campionato in Jugoslavia era appena ricominciato sabato scorso e il RIEC aveva per l'appunto vinto abbastanza rotondamente con quattro gol la sua partita interna, ma un conto era appunto il confronto con squadre della stessa nazione, cioè dello stesso livello di preparazione un conto è con squadre che invece sono in piena attività come la Juventus. Qui vediamo un'altra delle occasioni con un calcio di punizione di Cabrini e Brio che non riesce a concludere. Brio ha avuto un paio di occasioni per poter segnare, non si è accorto bene in questa occasione della palla che gli è schizzata all'ultimo momento e anche nell'azione che vedremo che sarà l'ultima dedicata al servizio su RIEC a Juventus, è sempre lo stopper che avrà un'altra opportunità. Anche qui nasce da un calcio piazzato, l'azione e poi il colpo di testa è troppo alto.